Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Impara l'Orienteering. Serie di video promossi dalla Federazione Italiana Sport Orientamento, la FISO. Siamo arrivati al terzo appuntamento e i temi di oggi saranno la scala di una mappa, non solo da Orientering, e poi l'utilizzo della bussola per orientare appunto una mappa, una cartina. Partiamo subito con appunto la scala di una mappa, una cosa che avrete sicuramente già incontrato, almeno a scuola. Ogni mappa, ogni cartina geografica, ogni rappresentazione del territorio dovrebbe aver indicato da qualche parte appunto una scala, che è quel numero, un po' strano magari, che trovate a lato, sotto, sopra, da qualche parte indicata, vicino al titolo in questo caso, nel nostro esempio, e vi mette un numero, dice scala 1, due punti, 15.000, che si legge scala 1 sta a 15.000. Ma che cosa significa quel 15.000? Quel 15.000 è un coefficiente, è il numero di volte in cui è stata rimpicciolita la realtà per farla diventare una mappa, perché chiaramente non posso disegnare il mondo nelle dimensioni in cui è realmente, devo rimpicciolirlo per metterlo sul foglio e farlo diventare appunto una cartina. Quante volte lo rimpicciolisco? Beh, dipende da quanto è grande la zona che voglio disegnare. In questo caso appunto uno sta a 15.000, ci dice che la realtà è stata rimpicciolita 15.000 volte. Giusto, il disegno è stato rimpicciolito di 15.000 volte rispetto alla realtà, cioè un centimetro della mia mappa corrisponderà poi invece a 15.000 centimetri nella realtà. E poi andremo a fare alcuni calcoli con questi numeri, chiaramente, per capire davvero che cosa significa e che cosa mi può servire. Ci sono scale diverse, ovviamente, abbiamo detto, dipende da quanto voglio disegnare, da quanto è grande l'area che voglio disegnare e da con quanta precisione la volta. La voglio rappresentare. In questi due esempi, la cartina in scala 1 sta a 500, rappresenta una zona molto piccola, rappresenta il cortile di una scuola. La cartina in scala 1 sta a 15.000, rappresenta un'area più ampia con dei prati e dei boschi, oltre a un piccino a parte del paese che vedete. Che differenza c'è tra le due? Come dicevamo prima, nella scala 1 sta a 500, vedrò gli oggetti più grandi, quindi un edificio mi occupa, come vedete, metà del foglio, mentre dall'altra parte gli edifici sono quelle cose piccolissime, dei quadratini neri che vedete molto piccoli. Mi sto rimpicciolito molto di più, quindi oggetti più grandi, compaiono se la scala è con il numero più piccolo. La scala con il numero più grande vuol dire che ho scelto di cartografare una zona più ampia e quindi è possibile chiaramente aver disegnato più cose. Devo essere un po' meno preciso perché devo farci stare tutto, quindi non posso usare lo stesso livello di dettaglio con scale diverse. Tornando a noi, dicevamo 1 sta a 15.000, proviamo a farci dei calcoli, viene ripreso la cartina dell'inizio, 1 cm corrisponde, abbiamo detto, a 15.000 cm nella realtà. Che cosa vuol dire? 15.000 cm è una cosa un po' difficile da misurare, da rendere tangibile. 15.000 cm possiamo invece trasformarli in metri, quindi divido per 100 il mio numero e scopro che 15.000 cm sono 150 metri. E qui comincia a diventare un po' più pratica la cosa. 1 cm sulla carta che abbiamo disegnato davanti a noi corrisponderà a 150 metri nella realtà. Nel caso di questa scala, appunto, 1 sta a 15.000. Quindi riesco a capire quanto sono distanti due oggetti, distanti magari un centimetro sulla carta. Se vedo due edifici che distano esattamente un centimetro sulla cartina che ho, so che nella realtà mi aspetto di trovarli a 150 metri l'uno dall'altro. Quindi questa indicazione mi dice anche quanto sono le distanze, quanto grandi sono le distanze tra più oggetti sulla cartina, tra più punti di riferimento che possiamo individuare. Questo succede anche nelle mappe dei libri di testo, se vogliamo, negli Atlanti o dove trovate delle varie cartine. In questo esempio abbiamo una carta in scala 1 sta a 10 milioni, quindi quei 10 milioni è diventato molto grande. Mi aspetto che sia una zona molto vasta rimpicciolita molto di più per farla stare sul foglio. Infatti, tra l'altro in questo caso, come in altri esempi, vi viene rappresentato anche uno scalimetro. Quei due centimetri che vedete in basso a destra mi dicono che il primo centimetro vale esattamente 100 chilometri. Quindi un centimetro sulla carta corrisponderà a 100 chilometri stavolta, non più che sono 50 metri di prima, 100 chilometri nella realtà. Per cui se vado a trovare due città, riguardiamo Vicenza e Venezia, che distano circa un centimetro tra loro sulla mappa, so che ci saranno circa 100 chilometri di distanza nella realtà, in linea d'aria chiaramente. La distanza che misuro poi viene trasformata, se vogliamo, in distanza reale. Nelle mappe d'Orienteering, le scale più utilizzate sono queste che vedete qui in questa diapositiva. Quindi se possiamo trovare cartine in scala 1 sta a 15 mila, dove appunto un centimetro corrisponde a 150 metri, e poi via via, andando a ingrandire il dettaglio, cioè la scala 1 sta a 10 mila, 7 mila e 500, 1 cinquemila, 1 quattromila, che di solito viene usato nelle carte di città o dei parchi, quelle che magari utilizzeremo di più nel mondo scolastico. Un centimetro sulla mappa corrisponde a 40 metri nella realtà, quindi riesco a disegnare un po' più dettagli sulla mappa appunto. Come faccio a misurare la distanza reale? Ultima cosa da considerare parlando di scale. Come posso calcolare quindi la distanza reale tra due punti sulla mappa? Beh, se ho una mia mappa e ho la scala, vado a misurare la distanza tra due punti, ad esempio se voglio misurare quanto è lungo questo lato della nostra scuola di prima dell'esempio, quello indicato con la freccia rossa nel disegno, vado a misurarlo in realtà, misuro la lunghezza sulla mappa, misuro che questa freccia rossa è lunga 7 centimetri, la scala l'abbiamo vista prima, la scala è 1 sta a 500, quindi ogni centimetro in questo caso corrisponde a 5 metri e poi utilizzando la logica, quello che mi suggerisce l'intuito di fare è che se ogni centimetro corrisponde a 5 metri e ho 7 centimetri, che cosa farò? Moltiplico i due numeri. Quindi prendo i miei 5 metri 7 volte, perché sono 7 centimetri, e posso concludere che la mia freccia rossa sarà lunga 35 metri nella realtà, quindi se vado lì in quella mappa a piedi mi aspetto di dover percorrere 35 metri per percorrere il bordo, il bordo dell'edificio. Tutto qua, basta fare una semplice moltiplicazione dopo aver compreso bene il significato dei numeri della scala. Proviamo con un paio di domande per vedere se è stato compreso l'argomento, ci sono due domande quiz, in 10 secondi provate a rispondere e segnate la risposta giusta, poi daremo le soluzioni dicendo perché è corretta. Risulta più ingrandito il disegno su una mappa? In scala 1 sta a 5.000, in scala 1 sta a 1.000, 7.500 o in scala 1 sta a 1.500? Più ingrandito il disegno. Andiamo a vedere la risposta corretta, la risposta corretta è la lettera B, la risposta è 1 sta a 1.000 come scala e abbiamo scelto il numero più piccolo tra questi, anche se la domanda chiedeva più ingrandite perché avendo detto che quel numero lì è quante volte viene rimpicciolito il disegno, quindi quello più ingrandito rimane quello che è stato rimpicciolito meno volte, quindi quello con il numero più piccolo tra i 4 che potevamo scegliere. Altra domanda, un po' più da fare nei calcoli, la distanza tra due città, a 10 cm di distanza su una carta in scala 1 sta a 500.000 è? 5 km, 10 km, 25 km o 50 km, quindi 10 cm, 1 sta a 500.000. La risposta corretta è la lettera di 50 km, infatti se vado a fare i calcoli, 10 cm, quella scala 1 sta a 500.000, mi dice che ogni centimetro è, convertendolo a 5.000 metri o 5 km per 10, 50 km che è la risposta. Passiamo ora alla seconda parte di questa video lezione che tratterà la bussola come argomento e quindi l'utilizzo della bussola per orientare una cartina da orientering. Quando tengo in mano la mappa per utilizzarla per fare orientering, come la tengo? Perché le prime volte che qualcuno la utilizza mi viene a tenerla in mano esattamente come il foglio, come il libro di testo. E' comodo mettere il nord in alto quando sto guardando una cartina sul banco o comunque all'interno di un libro di un atlante, ma quando sono nella realtà sarebbe bello avere questa cartina noi diciamo orientata, quindi girata dalla parte giusta rispetto a come sono io in riferimento alla realtà dove sono, al territorio che ho attorno a me. Quindi la mappa deve essere orientata, abbiamo detto, girata in modo che la sua rotazione corrisponda con la realtà. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se ho questa carta della scuola di prima per ruotarla nel modo corretto come faccio? Devo avere qualcosa che mi indichi come sono girato. Quindi o utilizzo dei riferimenti oppure utilizzo la bussola che mi dice dove è il nord. Vedete che sulla mappa ci sono sempre quelle frezzette, in questo caso azzurre, che mi indicano con una N stilizzata e la direzione del nord. Beh, la bussola mi dice dove sta il nord con il suo ago magnetico, quello rosso, e io posso semplicemente girare la cartina in modo che le frezze del nord corrispondano con il nord della realtà. Quindi la bussola mi dice dove è il nord rispetto a dove sono io nel territorio. E poi che cosa faccio? Beh, prendo la mia mappa e la giro, la ruoto finché le frezze del nord della mappa corrispondono con il nord reale della geografia e quindi con quello che mi viene indicato dalla bussola. In questo modo la carta risulta orientata, quindi girata nel modo giusto, che vuol dire che davanti a me vedrò le cose che ho davanti a me anche sul foglio e dietro di me vedrò le cose che stanno più in giù sul foglio e adesso a sinistra anche corrisponde. Come faccio a utilizzare questa bussola, questa tecnica per andare da un punto a un altro? per esempio. In questo esempio di una mappa stiamo al punto 7 e dobbiamo andare al punto 8 e è un po' storta da comprendere se è tenuta così orientata verso un argomento del libro. Che cosa devo fare allora? Posso prendere la mia bussola vedete ho si fa virtualmente chiaramente ho disegnato una frezza verde che collega il punto 7 al punto 8 e vorrei che quella frezza verde fosse dritta davanti a me. Come faccio a far diventare quella frezza verde dritta davanti a me? Allora prendiamo appoggiamo la bussola sulla cartina e mettiamo il lato lungo della bussola in modo che tracci una linea dritta tra il 7 e l'8 quindi il lato lungo della bussola va a posizionarsi dritto come una frezza come la frezza verde che ho disegnato che noi non abbiamo davvero sulla cartina ma che utilizziamo come riferimento. La bussola punta dal 7 all'8 a questo punto però la frezza del nord della bussola è fuori rispetto al nord della cartina la solita nostra frezzetta azzurra che abbiamo stampato sul fondo. A questo punto bussola e carta in mano io mi giro ruoto me stesso con la cartina in mano finché la linea del nord della mappa e il nord indicato dalla bussola coincidono quindi queste due linee vedete che la bussola si è girata. Queste due linee devono corrispondere. Quando corrispondono vuol dire che sono orientato nel modo corretto e posso proseguire nella direzione davanti a me e percorrerò la direzione della frezza virtuale verde quindi andrò davvero in direzione dal 7 all'8 quando ho orientato in questo modo la mia cartina. Serve sempre utilizzare la bussola ma prima introducendo il come orientare la cartina io stesso vi ho detto possiamo usare anche dei riferimenti potrebbe anche bastarti utilizzare riferimenti molto evidenti soprattutto ci sono delle linee quindi delle strade dei fiumi il bordo di un prato il recinto del parco sono tanti oggetti di linea che vanno in una direzione ben definita e che mi sono utili per orientarmi nel modo corretto nel senso che se faccio corrispondere la carta al disegno cioè il disegno alla realtà in questo caso è semplice quale di queste due mini cartine è orientata guardando questo torrente che avete nell'immagine e chiaramente vedete il torrente scorre leggermente da sinistra a destra andando in avanti e io non voglio averlo nella mappa in orizzontale quindi dovrò elimino questa possibilità e considero sicuramente valida invece l'altro vedete da una parte c'è il prato dall'altra c'è un terreno parzialmente aperto ma soprattutto la direzione del torrente mi indica qual è l'orientamento corretto della mappa io vi ringrazio per l'attenzione è stato un piacere e questo vi parlo di il terzo capitolo di nuovo appunto 7 video promossi dall'affiso la federazione italiana sport orientamento potete scoprire anche gli altri video capitoli della serie sul canale youtube dell'affiso fede orientamento grazie a tutti